Ciao Prateroli! Oggi più che mai è necessario iscriversi al canale subito perché stiamo parlando di bici e amici e quindi per sapere con chi va in bici bisogna scoprire chi c'è nel canale eh sì il punto è esattamente questo. Molti mi chiedono ma con che bici inizio? Eh, mountain bike, city bike, fat, eh, come si chiama? Gravel, pieghevole, beh, innanzitutto vedi cosa ti piace fare, mi piace buttarti per fossi e rovi e fiumi piuttosto che immaginare tanta strada, solo asfalto, misto, i movi sono in città, ti piace viaggiare, diciamo che ogni bici ha il suo campo di elezioni preferito. Ma c'è un aspetto che non devi sottovalutare. Le persone con cui uscirai? Nel tuo gruppo che bici hanno? Se per esempio nel tuo gruppo hanno tutte delle e-bike e tu hai una muscolare, eh beh, parete due uscite un po' diverse, tu faticherai a stare appresso a loro, loro saranno rallentati, il tipo di uscita sarà diverso. Al contrario, se magari in tua bici hanno tutte delle gravel e quindi immagino tanto asfalto e tu hai una mountain bike, eh, lì andrai un po' più lento, soprattutto su strada, eh, quindi bisogna valutare bene, con attenzione, il tuo gruppo o che bici esce, in modo da, in qualche modo, allinearsi. Poi magari cambieranno i gusti, cambieranno le amicizie e si cambierà bici. Magari per andare a creare un noleggio, tutto per parlare di un argomento che abbiamo già affrontato. Quindi, guarda il tuo gruppo e scegli le tue bici. Ciao Bratanoni!